Musica Un pubblico entusiasta che ha cantato e ha applaudito i brani dell'icona della comunità LGBTQ, anche se lei si definisce gender neutral. Inseparabile dal suo ukulele che ha portato in scena anche ieri sera a Chieti, ha già all'attivo sei album dai quali sono stati scelti i brani cantati ieri sera che hanno scalato le classifiche in tutto il mondo. Musica L'arena della Civitella ha riaperto le porte alla musica di qualità, alcune date in luglio e poi ci saranno altre date in agosto. Intanto questa sera è il concerto DLP dopo una serata dedicata alla comicità di Maurizio Battista. I prossimi appuntamenti saranno il 30 di luglio con una serata discoteca all'Ostellario nell'ambito del festival dedicato a Compianto Finarelli. Vedrà la partecipazione di DJ Ralf e animerà la serata del 30 luglio. Dunque la Civitella torna a essere un punto di aggregazione per la città ma non solo? Non solo per la città perché riscontriamo tante partecipazioni che vengono anche da regioni vicine, confinanti e di questo ne siamo estremamente felici sia per la città che per noi come museo perché oltre che come stellario si dà risalto anche alla struttura museale. Ci tengo a sottolineare che grazie a questa partnership con la deputazione teatrale siamo riusciti a realizzare queste serate che porteranno sicuramente come dicevo poc'anzi il lustro sia al sistema museale della città, nello specifico al museo della Civitella, che anche alla città di Chieti. A causa della positività al Covid di Francesco De Gregori che si sarebbe dovuto esibire stasera insieme ad Antonello Venditti è stato rinviato al 10 agosto il concerto. Le modalità di rimborso per chi non potesse recuperare quella data saranno consultabili sui siti dei circuiti di vendita Ticket One e Ciao Ticket.